La Tour Eiffel resta chiusa per freddo. Brutta sorpresa per i turisti arrivati davanti al monumento più celebre di Parigi. La torre è inaccessibile perché neve e ghiaccio che hanno colpito la Francia in questi giorni hanno reso le piattaforme e le scale impraticabili. Lo ha annunciato venerdì la Société d'Exploitation della Tour Eiffel, la società che gestisce il monumento. Ma la comunicazione non ha evidentemente raggiunto tutti i turisti stranieri che si precipitano sotto la Tour Eiffel ogni giorno. Cioè è chiuso e non abbiamo avuto informazioni a riguardo cioè quindi noi non lo sappiamo perché è chiusa. Abbiamo comprato i biglietti via internet dal Brasile, arriviamo ed è chiusa. Non sappiamo cosa fare, ha spiegato deluso un ragazzo brasiliano. Abbiamo appena visto che è chiusa, che delusione ha commentato una turista svedese. La Tour Eiffel nel 2017 è stata visitata da oltre 6 milioni di turisti. Grazie a tutti. Grazie.